Inserire il principio di insularità in Costituzione. È la proposta dei riformatori sardi che chiedono un referendum regionale. Questa mattina il Comitato Promotore ha allestito in via Roma un banchetto per la raccolta delle firme. Ha aderito Mario Segni, storico protagonista di iniziative referendarie. Una battaglia che va oltre i colori politici. Obiettivo 100.000 firme in tutta l'isola entro l'anno. Nel primo mese raggiunta quota 30.000. Il principio dell'insularità per noi sarebbe la soluzione di moltissimi problemi. Cominciamo con il fatto dei trasporti. Adesso Sassari e Nord-Ovest rischiano di essere tagliati fuori dai trasporti aerei addirittura con le principali città italiane. Certamente un principio di insularità impedirebbe tutto questo, tanto per fare l'esempio più concreto. Quindi è una battaglia che avvicina la Sardegna all'Italia e le fa un grande servizio. Ed è anche una battaglia apartittica. Certo, credo che chiunque a Sardo non possa non essere d'accordo su queste cose. Si tratta di metterci in condizioni di vivere come gli altri.